Vi portiamo in un attimo a Benevento, una città campana che custodisce nel suo centro storico una storia a lunga secoli, raccontata attraverso i suoi monumenti, le sue opere, i suoi dettagli, i suoi scorci. L'arco di Traiano è uno dei monumenti più belli e più suggestivi da osservare all'interno della città. Si tratta di rilivi scolpiti su un'opera maestosa, che celebrano un trionfo sensazionale. L'obelisco neo-egiziano, che racconta particolari della storia egizia della città, insieme al Boe Amos, lavorato in marmo egizio rosso. Questo e tanto altro, Benevento.